Il Romagna Centro Il Romagna Centro Il Romagna Centro Due giocatori rimasti attorno al portiere che recapita il pallone all'indirizzo di Gregorio intelligente a toccare l'indietro ed è regolare dunque la posizione di Luzzi per il 2 a 0 del Romagna Centro ai danni del Legnago. Il Romagna Centro Il portiere Semprini si può così, intanto vediamo anche i festeggiamenti della squadra ospite, un Romagna Centro che però riesce a controllare la partita fino all'85esimo minuto quando poi è arrivato il gol del 2 a 2 da parte del Legnago. A realizzarlo uno dei neo entrati, il giovanissimo Cess che riesce a trasformare l'occasione della 2 a 2 che è il punteggio finale purtroppo per il Romagna Centro non favorevole.